Presidenziali USA, oggi l'America sceglie tra Harris e Trump, casa bianca e congresso blindati, domani in diretta dalle 15 su Alice Channel, i primi risultati in un'edizione speciale di primo piano. Manovra di bilancio, previsti rifinanziamenti al Simodal Shift, 60 milioni in 5 anni ed integrazione delle risorse già stanziate, 50 milioni per il ferro bonus, tagli invece al cold ironing. Politica, stamane a Palazzo Chigi, l'incontro tra la Premier Meloni e il segretario generale della Nato-Rutte, focus sul ruolo leader dell'Italia nell'Alleanza e sulla pace in Ucraina. Italuftanza, stallo sull'accordo, il MEF non firma il piano per divergenze sul prezzo finale dell'operazione e annuncia l'Italia non svende la compagnia, la scadenza fissata al prossimo lunedì. Mercato auto in Italia, nuova battuta d'arresto, ottobre immatricolazione in calo del 9,1% anno, in brusca frenata la quota delle elettriche che arretra al 4%. Mercato auto in Italia, nuova battuta a Olasco. Mercato auto in Italia, nuova battuta a Olasco. Mercato auto in Italia, nuova battuta a Olasco. Grazie a tutti.